E' iniziata in città la nuova avventura della Scandona di Marco Trasente al Campo Coni. Gli Avellinese che saranno impegnati nel prossimo campionato di B2 si sono ritrovati per continuare la preparazione atletica. L'head coach Nino Sanfilippo suona la carica e i nostri microfoni si dice soddisfatto del primo impatto con il roster. Sì, impressioni positive. Sono ragazzi che confermano dal vivo le impressioni ricevute per via telefonica. Sono ragazzi brillanti, una squadra composta da molti atleti giovani che sanno che dovranno giocare una stagione impegnativa da un punto di vista sia mentale che tecnico perché è un campionato nuovo post-reforma che nessuno sa come si svilupperà e che criticità potrà avere, però è chiaro che ognuno di loro verrà chiesto un impegno estremamente serio. Non sente sulla sua pelle la pressione di allenare questo nuovo ciclo della Scandone. La pressione è quella che uno si dà tutti i giorni. Per quanto mi riguarda sentivo la pressione di dover fare bene rispetto a chi mi dava il compito, chi mi dava la responsabilità di allenare la squadra rispetto a quelli che sono tutti gli stakeholders. Parlo della proprietà, parlo dei collaboratori valenti che ho al mio fianco, parlo dei ragazzi che utilizzano questo step della loro carriera. Mi auguro per migliorarsi e per trovare poi negli anni successivi situazioni migliorative rispetto a questa di Avellino. Il club manager Luigi Genovese scommette sui giovani biancoverdi, commenta il girone e promette una campagna abbonamenti pronta a stupire tutti. Diciamo che in questi giorni ho avuto modo di conoscere i ragazzi, alcuni anche già li conoscevo perché ci ho giocato insieme ma li ho avuti anche negli altri anni come giocatori. Un esempio è Andrea che l'ho avuto anche alla Delfes. Sono tutti ragazzi che hanno voglia di dimostrare, voglia di giocare e secondo me potremmo fare bene e dire la nostra. Sì, diciamo che il nostro girone vede come squadre un po' più attrezzate Monopoli e Salerno e poi c'è un gruppo di 6-7 squadre che sta lì, che potrà dire la sua e soprattutto la differenza la faranno i dettagli. In società stiamo strutturando l'offerta da proporre poi ai tifosi, anche se secondo me i tifosi resteranno stupiti dalla proposta che faremo come società, anche proprio per invogliare le persone a venire al palazzetto. Il preparatore atletico Giuseppe De Kunzo invece fa il punto sulla condizione fisica attuale della squadra. L'impatto è stato più che positivo e la maggior parte di loro è già in un buono stato di forma. Ovviamente l'obiettivo iniziale di questo raduno è quello di provare a portare tutti sullo stesso piano atletico.